Ciao a tutti ragazzi! Allora, approfittando dei saldi, siamo qui con Klairs e vi facciamo vedere un po' il nostro shopping, anche perché se voi sapete Klairs, lo conoscete, sapete pure che c'è sempre la promozione dei 3 più 3, cioè nel senso che voi comprate 3 e altri 3 vi vengono regalati a seconda del prezzo, i 3 più cari li pagate, quelli che costano di meno vi sono regalati. Vi facciamo vedere subito il nostro shopping. Allora, partendo con la prima bustina. Allora, questa sarebbe la mia busta perché abbiamo fatto shopping entrambe, allora c'è la mia e c'è la tua. Vi metto poi i prodotti. Allora, partendo con il mio shopping da Klairs, ho preso questa cover per l'iPhone 12 Pro. Wow, che bello! Mi ha colpito il cuore. Io ne ho una uguale, identica, dell'Apple, però qui invece del cuore c'è la mela. C'è la mela, il logo Apple. No, la mela sopra. Allora, questa pagata 14,99. 14,99. Non so se riusciate a vedere qualcosa, però mi ha colpito. Sì, perché le preme si ha colpito. Poi ho preso delle cannucce. Delle cannucce per bibite 12,99. Sicuramente non vedrete niente, però vi assicuro che costano 12,99. Infatti sono proprio carine. Adesso le apriamo insieme e così vi faccio capire. Le apriamo insieme. Pensavo che si aprissero un po' più facilmente, invece ho dovuto usare queste, perché sono nella loro confezione fatta di plastica. La cannuccia in questione è questa qui. Qui sopra ha la fragola, bellissima, e in pratica penso che siano da cocktail, raga. Bellissima. Questa cosa dei cocktail, anche se io sono astemia, però mi piace l'estetica. Quindi ho detto no, no, le voglio prendere. Poi, sempre per me, ho preso questi orecchini. È titanio, quindi lo posso portare. Ma cos'è il piombo? Titanio, titanio. Ah, titanio. Sì. E sono lune. Orecchini. Bellissime. Queste pagate 15 euro. Ultima cosa che ho preso io, ho fatto la forbetta perché io ho preso tre, quattro cose, no? Tre cose. Quattro cose. Come non ti posso? Poi ho preso questo anellino fatto in gomma, guardate. In gomma. Con un brillantino. Questo che ha sulla punta, cioè, un brillantino. Un brillantino. Spero vediate qualcosa. Sì, sì, vedo. Ok. Con questa, questo elastico in molla, cioè, questo elastico fucsia, pagato 7,99. Adesso, passando al shopping di azzurra. Credo che questo... Ma che cos'è? Sono dei pompon, credo. È uno? È un fermaglio. Un fermaglio con un pompon. Posso farlo vedere? Amore, lo faccio vedere da vicino. Guardate che bello con questi pompon. Sì, ma me lo metterò subito. Sì, bellissimo. E questo? 6,99 questo. Poi, azzurra. Abbiamo un profumo. Un'alco profumata, per il corpo. Cioè, un'alco profumata per il corpo. Sì. E qua c'è disegnato un... E questo è un unicorno. Un unicorno, sì. Adesso lo proviamo. Sì, voglio sentire anch'io che profumata. Aspetta. Aspetta che molto lo faccio. Prendiamo mai così. Mmm. Sì, è di caramella. Questo comunque... Lo guardiamo dentro, altrimenti lo dobbiamo vedere sullo scontrino. Sentite? Non possono sentire, amore. Cosa sentono? Comunque, questo, quest'acqua profumata, a forma di unicorno, è stata pagata 9,99 euro. Vi fidate di me? Ok, 9,99. Poi ha voluto prendere queste due volpi, una per lei e una per il fratellino. Allora, venivano 10 euro, però sul primo c'è stata la cosa di pagare il prezzo pieno, quindi 10 euro. Sul secondo, il 50%. Quindi, questa è venuta 10 euro e la seconda è venuta 5 euro. Guardate che carine, morbidissime. E sono, ragazzi, non c'è l'etichetta perché loro l'hanno strappata subito, quindi non posso farvela vedere, ma fidatevi che sono della Thai. E se vi ricordate i portachiavi che vi ho fatto vedere, che sono uscite nel video delle uova di Pasqua, dell'uovo di Pasqua della Thai. Comunque sono di quella marca lì. Sono molto morbide e loro sono rimasti contentissimi. Quindi, il totale di tutto quello che abbiamo speso è 57,95. Non so se si vedrà qualcosa, però lo spero. Alla fine, vi faccio capire. Questo, questo e questo e questa qui sono venute gratis. Le altre cose solo le abbiamo pagate. Cioè, in pratica, per farvi capire, il mio shopping l'ho pagato, il suo è gratis. Vi consigliamo Klairs perché comunque ho capito che ha prezzi comunque esagerati su alcune cose, però le cose che vengono, raga, sono troppo carine, troppo pocciose, quindi ve lo consigliamo. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video, ma prima, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like e, cosa importante, che vi diciamo sempre, attivate la lampanella così sarete sempre tornati sui nostri video. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!